ho comprato doge ecco perché bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a vedere il fenomeno doge ragazzi andiamo ad analizzare che cosa sta succedendo su doge cripto valuta ben voluta da iron musk ma non solo perché sta facendo un trend da paura da un sacco di tempo perché l'ho comprata già sento i primi mormori per alcuni di voi che probabilmente penseranno dietro ne parliamo in questo video vi spiego quello che c'è dietro il ragionamento che c'è dietro perché ho comprato doge e cosa sto facendo e poi alla fine del video andremo a guardare come gestire queste operazioni aperte per chi di voi è entrato su questo cavallo vincente per chi di voi sta macinando fiumi di profitto con doge coin andiamo a capire quali sono le strategie le tecniche per gestire questa posizione bene 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 ma come mi piacciono questi video quindi preparatevi ragazzi perché oggi ci divertiamo perché faremo un briefing una serie di ragionamenti stra 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 importanti ma prima prima di andare a vedere il video su doge ragazzi vi devo dare una super boom news perché oggi riaprono tutti i percorsi di formazione di trading on riapre il corso ragazzi it's trading time il corso che ha avuto oltre oltre 400 utenti che si sono formati e tutte five star le recensioni ragazzi che ci avete lasciato grazie ovviamente anche da parte mia è un super lavoro ma assolutamente ne vale la pena se possiamo dare una mano tantissimo a chi è in questo mercato ragazzi riapre il percorso con il nuovo sito che già vi avevo anticipato ragazzi qui trovate il link in descrizione trading on.it il nuovo sito con tutti i nuovi servizi nuovi corsi e soprattutto la nuova piattaforma che ci permette di cambiare radicalmente tutto quello che era la nostra offerta di formazione aggiungere tantissimo contenuto aggiungere una parte di contenuto anche alla calmi ragazzi ma non è solo questa non è solo una release questa ragazzi non è soltanto che stiamo aprendo il corso ma c'è un bonus non lo faccio veramente da un anno ok non faccio un regalo da un anno su questa cosa però è arrivato il momento perché per il lancio del corso ragazzi ci sono dei coupon 50 euro gratuiti per chi si iscrive ragazzi e compila diciamo dal link che vi lascio in descrizione compilate la registrazione vi arriva il coupon sulla email andate a inserire il coupon sul corso e acquistate con 50 euro di sconto non faccio mai promo chi mi conosce lo sa non faccio mai questi sconti ragazzi quindi questa è una cosa estremamente unica più che rara diciamo perché la faccio proprio in virtù anche del lancio di questa nuova piattaforma che sono molto contento abbiamo lavorato veramente tanto ragazzi e voglio anche dare un po alla community diciamo uno sconto qualcosa in regalo quindi ragazzi compilate dal link in descrizione la registrazione negli andate a registrare e vi prendete i 50 euro di sconto sul corso ovviamente li avete solo ragazzi se li usate ok quindi il coupon non arriva ma se poi non lo usate non rientra nei venti che hanno diritto va bene vi ho detto tutto adesso passiamo alle cose relative ad oggi perché ho comprato d'oggi ragazzi qui bisognerebbe fare allora intanto io sono segnato una serie di punti perché ragazzi qui bisognerebbe fare intanto un ragionamento estremamente importante quella che è la differenza fra l'analisi di natura fondamentale di natura tecnica allora l'analisi fondamentale nel cripto volute che cos'è analisi dei dati macro ok ci può stare analisi dei dati on chain ok ci può stare e poi l'analisi la natura del white paper famoso progetto buono non è buono mi piace non mi piace cosa va a risolvere cosa potrebbe avere nel futuro bla 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 allora a che cosa serve l'analisi del white paper in una bull run ok ragazzi questo è il problema al di là del fatto se ci piace o meno analizzare un white paper perché magari ci dà un po più sicurezza una questione personale la ragioniamo in termini oggettivi ragazzi quindi non in termini soggettivi di una cosa che piace fare anche a me piace fare questa cosa che mi piace guardare dei progetti o dei progetti a cui sono affezionato e continuo a dire ok mi ritengo portafoglio bla 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 però veramente pensate che in una bull run su un mercato come quello delle cripto valute dove non ci sono utili a trainare questi balzi ragazzi non ci sono dividendi non ci sono bilanci a trainare questi rialzi quello che c'è dietro è la pomo l'idea del principio riflessivo si chiama così ho fatto un video tanti anni fa probabilmente tanti anni due anni fa probabilmente molti di voi non hanno visto perché ero diciamo non era il canale non era così grosso e ve lo ripeto qui allora il principio riflessivo è quello che pilota i mercati cripto in questo momento nella fase della bull run il principio riflessivo in mercati altamente inefficienti come quelli cripto adesso faccio profondamente inefficienti vabbè ragazzi ok altamente inefficienti significa ancora giovani ok parliamo così è molto importante principio riflessivo in questo tipo di mercati molto 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 ve lo ripeto molto di più di qualsiasi altra cosa come ad esempio un white paper non perché nel lungo periodo white paper non sia importante dove va del progetto non sia una cosa importante ma perché nel breve medio periodo questa cosa il mercato non la riesce apprezzare perché noi non sappiamo se effettivamente il progetto x arriverà dove dice di arrivare e poi non sappiamo se il mercato accetterà quel tipo di progetto lo applaudirà dirà ok io lo utilizzo questo non lo sappiamo e siccome questi mercati hanno una volatilità enorme nel momento in cui parte una bull run andare a ragionare sulla stock picking e quindi sul cripto picking sulla scelta delle cripto valute da mettersi in portafoglio leggendo i progetti non ha molto senso a un peso pari al 10 20 per cento magari in una fase di mercato orso sì il mercato ribasso sì di mercato che è molto spento che va in trading range si ha più senso ma in burrano dovete salire sul cavallo vincente è l'unica cosa che vi può dare un'informazione del genere è l'analisi tecnica è l'analisi ciclica non ci sono altre analisi se volete fare questo tipo di profitto dovete stare dietro ai grafici questo è il mio punto di vista in una burrana ragazzi ok non vi sto dicendo che il resto non è importante vi sto dicendo che una burrana è la gara la preparazione alla gara la dovete fare gli anni prima ma nella gara dovete correre e arrivare primi e per fare questo bisogna essere sui grafici e guardare quello che succede ecco l'importanza dell'analisi tecnica ed ecco il motivo per il quale io ho comprato dodge ve lo faccio vedere vi faccio vedere perché ho comprato dodge perché non vi dico nemmeno che si poteva comprare qui perché nel momento in cui vi dico una cosa del genere voi dite perché non c'è detto prima e soprattutto perché non l'ho fatto io non ho comprato dodge qui l'ho comprato qui perché ragazzi perché nel momento in cui ho fatto questo tipo di operazione non l'ho fatta a fini di investimento di lungo periodo l'ho fatta ai fini di speculazione con le cripto che avevo da altre parti avevo venduto ho detto vabbè le metto lì e faccio questa corsa vado sul cavallo perché l'analisi tecnica ha dato un segnale inequivocabile su dodge perché vi faccio capire questa cosa allora questo è il livello del massimo precedente dopo una super pump va bene dopodiché il mercato va gira e scende comprare qui doggio e si raccompravi e prezzo basso è impossibile se ragionate così perché poi questa cripto sappiamo bene è estremamente volata in quanto dietro non c'è progetto non c'è niente e quindi è solo fomo mercato puro adesso vi dico anche cosa penso io di questa cosa nel momento in cui però il mercato mi dà un segnale di analisi tecnica cioè mi fa un hammer così pronunciata così importante una figura di inversione su un coin che è fortemente riflessiva quindi questo significa che quando riparte tutti salgono nel momento in cui mi fa una barra di congestione e chi è nella via academy adesso sa sta ridendo che diceva questa è una barra di congestione l'ho studiato anche sui corsi molti di loro e ci sono dei pattern molto facili da riconoscere i mercati delle criptovalute sono molto molto profittevoli questi pattern nel momento in cui mi brecca il 28 di aprile cioè pochi giorni fa questa cosa qui e soprattutto se proprio vogliamo essere onestissimi in questa zona in questa candela il primo maggio dal 28 aprile al primo maggio è tutta un'aria di buy che a livello di analisi tecnica è una buy chiamato ragazzi una telefonata una call questo è un segnale di analisi tecnica basilare da abc lo studiate anche sul libro di marfi analisi tecnica dei mercati finanziari in qualsiasi corso basic vi fa entrare sul mercato del genere ovviamente se avete una mentalità ragazzi perché poi tutto il mindset sui mercati tutta questa cavolo di confusione ogni volta che io lo capisco veramente siamo sommersi da idee di ogni tipo che sono poi non focalizzata al nostro obiettivo se il nostro obiettivo è fare il profit su un'operazione vi basta guardare queste due cose il resto è completamente irrilevante nel momento in cui io vedo una cosa del genere salvo su questo cavallo poi il mercato mi dà il profitto ok allora vado e mi prendo il mio profitto ma gestisco se non lo fa esco dalla posizione ma adesso andiamo a chiederci un'altra cosa salito su un profitto del genere come la gestisco allora questo volevo darvi un'idea generale del perché comprare dolce era aveva senso due giorni fa perché l'analisi tecnica lo indicava non è una cosa è a dopo lo dici dopo io lo dico in continuazione ragazzi nel mio canale tecnica ma sto pubblicando tutte le mie operazioni subito non è che lo posso pubblicare su ogni coni comunque che in accade ma anche mentre in system abbiamo e th più cento per cento solana bnb abbiamo fatto numeri stellari ragazzi poi vi mostro anche il wallet e scusate il portafoglio ormai parla così il wallet anche col portafoglio investimenti vi mostro il portafoglio investimenti che ho consigliato a gennaio 2011 in youtube quindi totalmente free da vedere che cosa sta combinando cioè siamo a numeri stratosferici ne parliamo anche in questa settimana quindi non è che lo dico dopo ragazzi e che non si può fare un video ogni minuto quando uno va a vedere queste cose bisogna essere capaci a comprendere quello che diciamo quando uno come me vi fa analisi e vi da questi contenuti bisogna un po ragionare capire quello che sto cercando di darvi quindi di dare della mia diciamo conoscenza parliamo così del del mio tutto quindi alla mia del mio operato ok nel momento in cui vado a fare questo tipo di operazione non la faccio a fini speculativi per domani dopo domani anni 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 no da qui al breve io non è che sapevo che d'oggi faceva questa impennata però nel momento in cui il mercato la fa ho semplicemente fatto un'operazione di trading non sono andata a guardarmi il paper perché doggio una coin che fa se non c'è niente dietro sì non c'è niente dietro però uno come il maschera comprata perché chiedetevi perché invece di farvi riempire la testa di fesserie d'ogni giorno chiedetevi perché perché il concetto è che se uno come io non lo sta dicendo compriamolo facciamo speculazione ok infatti ragazzi io non è che questa come me la tengo in portafoglio questa è già straprotetta dai sistemi che adesso vi vado a spiegare come fare ma nel momento in cui la vado a prendere so che cosa sto comprando ok se ne andate a comprare una pizza non è che pensate di mangiare pesce cioè la stessa cosa non è che stiamo andando a dire a che cosa ho comprato cosa ho comprato ok perché ho comprato perché ci voglio guadagnare speculare e fare la mia operazione di profitto doge è una cripto valuta presa simbolo presa simbolo di questo mercato libero presa simbolo perché dietro non c'è nessuno invece tutte le altre hanno il progetto hanno la tecnologia invece si voleva premiare si voleva far vedere che un mercato può esistere e coesistere anche senza niente perché il valore siamo noi quello che scambiamo domanda offerta il valore sono le persone che sono dentro il mercato il progetto sì io oppure la vedo così ragazzi che la vette non metterei vai diciamo il mio su doge però è più una forma mentale più forse un limite oserei dire piuttosto che realtà il doge in questo caso insegna una regola dei mercati domande offerta fa il prezzo tutto il resto no un compa nulla ok ragazzi va bene allora andiamo a capire le regole come andare a vincere contro una coin che ha fatto allora quali sono le regole di gestione di un pump di questo tipo vi faccio vedere intanto quello che è il il pump in termini di range di prezzo da più o meno un ingresso validato a qui siamo all 86 per cento allora molti di voi hanno doge tra l'altro da prima perché io per esempio un paio di utenti in academy anno doge da molto prima uno dei miei cari amici nonché parte del team di trading on ad oggi da molto prima allora come si fa a gestire questa cosa ci sono delle tecniche che dobbiamo prestare dalla attività dal gioco d'azzardo perché in realtà in questo caso su doge non dobbiamo parlare di investimento come vi ho spiegato di lungo periodo una cosa wow ma parliamo di speculazione nel momento in cui parliamo di speculazione utilizziamo le tecniche gioco d'azzardo la più semplice di tutti è il free roll quindi se volete gestire bene questo tipo di operatività dovete togliere di operazione scusate dovete togliere l'operativi la emotività dalla vostra operazione per farlo andate in free roll ragazzi la prima tecnica che vi consiglio se state gestendo un più 800 un più 400 su dodge vendete il capitale e che avevate messo all'inizio e fate il free roll siete dentro solo con il gain quindi non potete più perdere nulla già questo è un passo avanti dopodiché c'è un'altra tecnica che si può utilizzare quella del trailing stop il training stop è un sistema di uscita che si aggiorna ogni giorno cioè che segue il mercato ve lo faccio vedere in termini pratici sul grafico questo è un trailing stop per esempio io lo metto qui e lo aggiorno poi lo metto qui ora sta salendo o dopo lo metto qui domani sale ancora lo salgo ancora quindi significa che se il prezzo da qui per esempio torna indietro e becca questo livello io qui esco e chiudo la mia operatività quindi abbiamo visto free roll prima regola portati a casa il vostro capitale giocate gratis quindi emotività bye bye seconda regola trailing stop in questo caso seguite con il trailing stop in base al vostro time frame di riferimento questo è un problema perché d'oggi è molto volatile quindi se volete uscire in maniera molto veloce cioè se avete paura di perdere tanto profitto dovete uscire velocemente ma se uscite velocemente e poi questa riparte vi fa più 100 voi siete fuori dal mercato quindi coperta corta se esco veloce posso fare più errori se esco lento prendo meno profitto ma faccio meno errori scegliete quello che fa per voi in base al time frame anche questo spiego nei miei corsi ragazzi proprio è uno degli argomenti topic del corso il la scelta decisione del time frame di riferimento dopodiché la mia preferita la mesh up ok mischiare free roll con trailing stop è la soluzione migliore secondo me per gestire un'operazione come dodge da una parte io prendo il mio capitale da quello che ho investito e gioco senza parte emotiva ma poi non voglio lasciare neanche il profit a quel punto non volendo lasciare il profit cosa faccio ogni tot giorno esco con una quota di profitto aggiuntivo nel momento in cui il mercato mi sta dando un più 80 per cento io mi porto a casa il mio capitale e poi inizio a togliere il 10 per cento di profitto poi domani mi sale ancora tolgo un altro 10 per cento di profitto e nel frattempo uso il trailing che vi ho fatto vedere questo in questo modo io vado a togliere per esempio una parte di profitto qui una parte di profitto qui una parte di profitto qui e nel frattempo seguo con un trailing una parte la lascerò sempre in trailing stop magari alla fine mi resterà un 10 per cento di un trailing stop ma sarò stato sul cavallo avrò vinto perché ho fatto un sacco di gain ho gestito bene la mia operazione speculativa senza uscire senza sapere fretta di uscire perché dovete lasciare correre i profitti si fa così nel trading e negli investimenti non li tagliate tagliate le perdite non i profitti ok questa è un'altra regola dopo trend is your friend e lasciare correre i profitti va bene vi ho detto tutto quello che volevo dire su doggio e su questo splendido argomento bitcoin quando ti svegli fatemi sapere se avete doggio cosa state facendo cosa avete intenzione di fare scambiamo nei commenti tutto quello che ci gira così ovviamente come sempre facciamo più formazione ciao ragazzi